Ciao a tutti merdoni, come va? COGLIONE! Ma chi è quel mona, che grida e sbatte la porta, urlando? Razza di coglioni! Comunque, torniamo a noi! Come va? Spero tutto bene! Dopo aver riportato, la motoretta della nonna, alla base, abbiamo finalmente accesso, all'involucro vaginale del responsabile della Universal Petroleum. Quindi, andiamo all'ultimo piano di questo edificio e vediamo cosa hanno da offrirmi questi magnati del petrolio. Ehi ma, cos'è quella cassa sulla mappa? IL NEMICO È QUI! Ma che cazzo stai dicendo, il nemico è il tuo cervello marcio, coglione! Bravo, tu si che hai capito tutto dalla vita. Imparate da lui, merdoni. Mi hanno detto che, il capo, è una bella gnocca, speriamo che sia anche brava a sbucciare le banane col culo. La tua è una richiesta del tutto irragionevole. Qui ci sono più di 2000 persone. Come pensi che si possano allontanare tutti in 6 ore? Senti, incontriamoci e parliamone di persona. Mando una macchina a prenderti, ci prendiamo un cappuccino e... No! Ho sentito che avete un problema. Sai, il mercenario di quegli addetti alla sicurezza mi han parlato. Nilsson. Beh, sono felice che tu sia qui. Questo ci offre una fantastica opportunità. Ti do il benvenuto alla Universal Petroleum. Sono la dottoressa Rubin. Vuoi firmare un contratto adesso? Sono sempre disponibile, ma mi serve qualcosa in cambio. Qualsiasi cosa ti serva, posso procurartela. Sono qui con un solo scopo. Continuare a far scorrere il petrolio. E per farlo, posso usare ogni metodo, incluso te. Voglio Blanco. Blanco. Lo conosco. Quando Solano ha cattive notizie per noi, manda Blanco. Ho chiesto ai miei di organizzare un incontro, ma a quanto pare più tardi vede uno degli ufficiali di Carmona. Dove? Quello dovrai scoprirlo da te. Se mi aiuti, ti dirò quando si incontreranno. E tu dovrai solo scoprire dove. I guerriglieri locali potrebbero saperne di più. Sono le costole di Blanco. D'accordo, sentiamo. Il signor Solano segue una strategia per disincentivare le multinazionali. I suoi uomini hanno rapito il mio vicepresidente marketing, Victor Contreras, e lo uccideranno se la Universal Petroleum non lascia il Venezuela entro sei ore. Sei ore? Gli uomini di Solano non sembrano molto svegli. Mi chiamano regolarmente dal cellulare di Victor. Ti presto il mio elicotterista Iwan. Iwan depositerà con l'elicottero postazioni di ascolto per eseguire una triangolazione, individuare la posizione dei rapitori e liberare Victor. Quando lo avrai recuperato, vivo, Iwan potrà riportarlo qui. Ne mi dirai dell'incontro di Blanco. Ti dirò quando avrà luogo. Credimi, voglio che Blanco e Solano siano eliminati quanto te. No, non credo. Tu vuoi Blanco e io rivolgo Victor. Ti pagheremo. Accetti il contratto? Piazzare due antenne di Sky non mi sembra così difficile. Penso di poterlo fare senza problemi. Sembra che non abbia scelta. Inoltre potrò uccidere un po' dei delinquenti di Solano. Ci sto. La dottoressa Rubin non sembra essere molto spaventata dal fatto che l'intero paese sia collassato e che i suoi inquidati siano stati rapiti. Grazie al cazzo, sta rinchiusa in questo palazzo fortificato, con guardie armate e mura spesse come il culo di Giuseppe Simone. Al primo accenno di rischio, fuggirà in Texas a cavalcare le mucche, con i big money del petrolio. Ok, allora vediamo dove sono i tre punti per posizionare le antenne. Ci scommetto i coglioni, che le zone selezionate sono sotto il controllo del nemico e ci dovremo aprire la strada a bazzucate. Spero di non rimanere senza munizioni. Senti, elicopterista della mutua, vedi di darmi il giusto supporto tecnico-tattico in battaglia, altrimenti ti faccio molto male, molto molto male. Allora, vediamo, mi sono già perso per strada. Dove cazzo devo andare? Ma, l'obiettivo è a sinistra, però, mi consiglia di andare a destra. Ok, facciamo le cose fatte bene, come delle persone normali, e seguiamo la strada. Ma di solito, quando seguo la strada, lo prendo sempre nel culo, perché, sono abituato a fare di testa mia. Ma dove cazzo sono finito? Ma non dirmi che, sono finito dentro una base chiusa. Ma vaffanculo, mappa di merda, e programmatori froci. Ah, guarda che bucio di culo. C'è una scala, e con un po' di fortuna, posso saltare giù dal muro. Sento uno strano rumore, hanno sparato i fuochi d'artificio. Oh, merda. Sì, il mio cazzo pucciato nella marmellata, altro che fuochi d'artificio. C'è un carro armato nemico, che mi sta sparando a mosso. E che cazzo? E adesso, come cazzo faccio a passare? Ho finito i colpi del bazooka, e se resto qua, tra qualche secondo, verranno giù le mura. Ok, adesso farò una cosa molto pericolosa, e voi a casa, non pensateci nemmeno ad imitarmi. Cercherò di prendere possesso del carro armato, e di usarlo per fare breccia, tra le mura nemiche. Non ho idea di come avvicinarmi, senza essere sbudellato vivo, ma ci proverò, per prima cosa, devo recuperare un po' di energia, altrimenti finiamo sottoterra. Ho un'idea allucinante. Allora, correrò come uno stronzo, verso il carro, alla cazzo di cane. Corri 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 corri, budellone. Madonna, questa era vicina. Mi dispiace per l'alberello, ma, meglio a lui che a me. Porca di quella puttana, ho l'energia che rasenta lo zero, guardate, ho l'energia all'1%. Uddio, se mi scoreggiano in faccia vado in coma. Madonna, devo prendere il controllo del mezzo, subito. Cucu, sono quella puttana di mammeta. Giù la pistola, e dammi il confetto. Dai dai dai, smolla qua, non fare il bimbo minchia nutelloso, che vuole quel gioco di merda di Minecraft. Scoppia, invasato di merda. Ok, abbiamo il mezzo potente, e adesso facciamo una strage. Posso entrare dalla porta principale, ma siccome preferisco prenderli di sorpresa, buco il muro di fango e merda, ed entro come un Chuck Norris, incazzato come una biscia. Te dirai. Cappi o pistone, sanno già che sei qua, non vorrai mica prenderli di sorpresa, xd. Brutti coglioni, avete un'esperienza tattica, identica ad un verme con problemi psichici. Se entrassi dalla porta principale, mi accoglierebbero con i lanciamissili. Invece, se buco dal mezzo, riesco a tagliare fuori le difese nemiche, ed eliminare le torri di guardia comodamente in copertura. Ma capisco che per voi, è troppo difficile arrivarci, comunque, siccome sono io il genio tattico, seguite i miei consigli, e vivrete più a lungo. Allora, vedete il cerchio giallo? Dobbiamo lanciare il fumogeno, dentro questo rain, per avvisare l'elicottero, che la zona è sgombra. Il nostro elicotterista, ci porterà la prima, delle tre antenne, da posizionare sul campo. Oh, in ogni gioco che faccio, la gente mi chiama capo. Cazzo, mi conoscono tutti, pure nei videogames. Aga gaga, so terribile. Ok, smolla qua l'antenna di Sky, e grazie mille, per il tuo, non, aiuto, contro il carro armato leggero. Ti venisse un colpo. Allora, Fiona, è così che funziona. Io chiamo l'irlandese e lui mi porta quello che mi serve, e allora perché non ho nessun irlandese? Beh, dopo il Montenegro avevamo deciso di lavorare da soli, ma se vuoi ampliare il team, vedrò cosa posso fare. Dopo il Montenegro? Ma che cazzo è successo in Montenegro? Sento puzza di inculate, e anche belle grandi. Comunque sì, puttana, trovami un elicotterista, subito, convincilo a lavorare per noi. Che ne so, fagli una bocca col culo, pagagli la prima settimana di stipendio, e poi inventati delle scuse sui ritardi bancari, o che ne so io, ho bisogno dell'elicotterista, e non ho proprio idea di dove trovarlo. In questo paese di Fugna, il più bravo del villaggio, ha la patente B, comprata, figurati come sono messi gli altri budelli. Secondo me la metà della popolazione, non sa nemmeno andare in bicicletta. Dai coglione, sali e dammi una mano. Allora, che fai? Che cazzo di problema hai al cervello? Metti le manine sulle scalette, e vai alla mitraliera. Faccia di merda. Ti vuoi muovere o no? Vaffanculo, imbecille, ma voi della Universal Petroleum, fate delle scuole speciali per essere assunti, oppure vi prendono dopo un test di psicologia per coglionazzi? Il più sveglio tra di voi, ha l'attestato della scuola media inferiore, ed è diventato dirigente. Alla faccia Ducats. Bene, penso che per oggi è tutto. Adesso, cerco la strada più rapida, per arrivare sano e salvo, nella prossima zona. Abbiamo pochissimi colpi nel carro armato, e dovremo trovare presto un'alternativa. Male che vada, useremo la mitragliatrice. Bene, ora vi saluto, perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto.